ciao amici lo zenzero è un potente antiossidante e disintossicante è utile in caso di problemi digestivi se fermentato è ancora più potente e ottimo per dare una bella sferzata al metabolismo grazie al processo di fermentazione le proprietà di questa meravigliosa spezia si amplificano rendendola un alimento potente e benefico che non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola ultimamente si parla molto e giustamente dei benefici dello zenzero il suo contenuto di vitamine c gruppo b e di minerali importanti come calcio potassio magnesio fanno dello zenzero un super cibo un vero e proprio concentrato di sostanze salutari la fermentazione sotto sale arricchisce lo zenzero di enzimi vitamine e sali così diventa tre volte più potente di prima il procedimento per preparare lo zenzero fermentato è semplice deriva da un'antica ricetta tradizionale dell'india ma è molto usato anche in nord africa possiamo usare lo zenzero fermentato dopo avere tolto il sale nelle insalate nelle zuppe per condire i primi e i secondi piatti vogliamo provare se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video prendiamo 4 6 radici di zenzero possibilmente biologico le sbucciamo per bene e le tagliamo a fettine non troppo grandi poi impaniamo ogni fettina con del sale grosso meglio se integrale premiamo bene per fare penetrare il sale più sarà a contatto con la polpa dello zenzero più agirà efficacemente prendiamo un contenitore di vetro per alimenti versiamo sul fondo uno strato di sale distribuendolo bene iniziamo a disporre le fettine di zenzero impanate nel sale pressandole bene l'una contro l'altra e formando un primo strato sopra ogni strato di zenzero versiamo una spruzzata di sale poi aggiungiamo un altro strato chiudiamo bene e lasciamo fermentare per tre giorni e finalmente possiamo usare questo prodigioso alimento quando desideriamo aggiungere un pizzico di sapore piccante e sano al nostro cibo per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un clic e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano preleviamo un pezzetto di zenzero dal barattolo laviamolo dal sale in eccesso e tagliamolo come ci serve nella ricetta il gusto piccante e salato darà un tocco davvero unico e inaspettato basta assumerne un po ogni giorno per restare stupiti dei suoi effetti soprattutto sul sistema digerente e su quello immunitario che diventa più forte gli enzimi presenti nello zenzero fermentato accelerano il metabolismo aiutano a perdere peso velocemente e in modo sano lo zenzero fermentato si conserva in frigorifero per circa sei mesi mangia sano e vivi meglio